Bella raga, eccoci ritornati, dunque oggi giornata frenetica per quanto riguarda gli allenatori. Dunque ufficiale Carlo Ancelotti, il nuovo allenatore dell'Everton, dunque ricomincia dopo pochi giorni dall'esonero, dall'allenatore del Napoli, Ancelotti ricomincia dall'Inghilterra, ricomincia dal Liverpool, sponda Everton. Dunque un contratto fino al 2022, inizierà a allenare però dal giorno 26 di dicembre, dunque dal Boxing Day, che si gioca in Inghilterra, farà l'esordio sulla panchina dei Blues di Liverpool per quanto riguarda Ancelotti. Contratto, ripetiamolo, fino al 2022, le cifre ancora non sono state ufficializzate, dunque non sappiamo quale siano le cifre giuste per quanto riguarda l'ingaggio. Quello che è certo è che pochi minuti fa, ma sempre nell'applicazione OneFootball, ha ufficializzato Carlo Ancelotti, il nuovo allenatore dell'Everton. Ieri Arteta è stato ufficializzato invece come nuovo allenatore dell'Arsenal, che è andato a sostituire l'esonerato UniEye Emery. Dunque in Inghilterra cambiano le panchine, cambiata anche in Italia, ricordiamolo ancora, con l'esonio di Vincenzo Montella, Beppe Iachini al momento, non l'ho detto in video precedente, al momento in pole position ci sarebbe Beppe Iachini, l'ex senatore dell'Empoli. Vediamo un po', vediamo le cifre ufficiali che ci saranno per quanto riguarda Ancelotti, vediamo l'allenatore ufficiale per quanto riguarda la Fiorentina, che sarà svelato poco prima di Natale, così ha detto il patron Rocco Commisso. Vediamo se sarà alla fine Beppe Iachini o addirittura Luigi Di Biaggio, si sta riscaldando anche questa pista. Dunque quello che è certo è quello che è ufficiale, dunque va bene anche al Napoli, visto che non dovrà più pagare quei sei mesi restanti di contratto ad Ancelotti, che prendeva 6,5 milioni di euro per quanto riguarda l'ingaggio al Napoli. Vediamo invece la cifra, si parla addirittura tra gli 8 e 10 milioni di euro a stagione per Ancelotti, fino al 2022, dunque un contratto praticamente di due anni e mezzo. Vedremo se sarà questa la cifra in Inghilterra, questo si può cifrare addirittura, tra gli 8 e i 10 milioni di euro a stagione. E dunque in bocca al lupo per la nuova avventura a Carlo Ancelotti, io vi auguro sempre un buon sabato, vediamo se non ci siano novità, sempre fino alla fine Forza Juve, ciao a io e iscrivetevi al canale, dai altri 8, regalo di Natale, 1000, 1000, dai 1000 iscritti di regalo di Natale, forza iscrivetevi al canale.